Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Domani, venerdì 25 febbraio, trasporti pubblici a rischio anche a Roma, a causa di una serie di agitazioni di 24 ore indette a livello nazionale dai sindacati CGL, CISLWILL, UGL, Faisa, CISAL, CUB, Trasporti e COVAS. L'agitazione, lo ricordiamo, interesserà sia i dipendenti di ATAC sia quelli di Roma TPL, per cui domani dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio saranno possibili stop su bus tram metropolitane e ferrovie urbane Romalido, termini Cento CGL Roma Civita Castellana Viterbo. I primi possibili disagi però già questa notte sulla rete dei bus notturni, sempre domani agitazione di 24 ore anche in Cotral.